L'associazione Sedomani Terni per il secondo anno consecutivo ha organizzato un evento in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia. L'evento è patrocinato ovviamente dal comune di Terni, da Terni Donne, dal CESVOL e vede la partecipazione di Blob LGC che è il 17 maggio. In questa circostanza abbiamo organizzato un evento composito fatto di cultura con delle mostre che si tengono presso Terni Donne da venerdì a domenica, mostre di pittura, mostre di fotografia e di poesia. Abbiamo organizzato anche un flash mob per la giornata del 17 che si terrà a Piazza della Repubblica alle ore 17. Inoltre faremo uno spettacolo teatrale il domenica, anzi scusate, sabato alle ore 21 e la proiezione di un film alla presenza del regista domenica 18 alle 17 tutto a Palazzo Primavera. Quindi ecco questa è un po' la risposta ai venti di repressione che si stanno sentendo negli ultimi tempi. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare ai nostri eventi.